Un Prime Day ricchissimo di offerte. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Il 12 e il 13 luglio si è svolto il Prime Day. Migliaia di offerte, centinaia di sconti. Poteva il vostro Loretech non acquistare qualcosina? Beh, detto fatto, ho racimolato in questi giorni gli ultimi pacchi che sono arrivati e ho deciso di portarvi l'unboxing più ricco di sempre, Amazon Prime Day. In questo video vedremo tutto quello che ho acquistato in questi giorni di sconti. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre cari amate forbici e cominciamo con l'apertura dei pacchi. Primo pacco. Allora, mettiamo tutto qui e vediamo. Allora, primo prodottino, cuffie Bluetooth con cavo della JBL Pure Bass Zero Cable. Il modello è il Tune 205 Bluetooth, queste le utilizzerò per un progettino. Secondo prodotto, alimentatore di Apple. Il nuovo alimentatore USB-C da 20 Watt. E poi una chiavetta USB che può sempre servire. Questa è una SanDisk con USB 2.0 Per magari passare i file e i documenti. Altro pacco. Qui non ci servirà la forbice. Allora. Ah, ecco. Questo è un prodottino di OLBAC. Un prodottino Amazon Warehouse Deal. C'era lo sconto del 20%. Era un prodottino usato pari al nuovo. Allora, chiaramente non potevo farmelo sfuggire. Questo è un cavo jack da 3,5. Guardate la qualità costruttiva. Contatti in oro. Il brand di OLBAC. Questo fermacavi brandizzato OLBAC. Io provo già diversi prodotti. Questo cavo lo utilizzerò per collegare le mie Audio Engine A2 Plus. Pass al mio Mac Studio. Il tutto cablato. Andiamo avanti. Un'altra chiavetta USB. Questa la utilizzavo già. Ma avevo bisogno di un taglio più grande. Quindi ho scelto il taglio da 64 giga dual drive. Perché da una parte è USB-C e da una parte USB-A 3.0. Veramente molto comoda. Velocità incredibili. Indispensabile. Altro prodottino. Ok. Allora. Queste sono delle lampadine LED. Il modello è H7 di Philips. Per la mia nuova macchina. Questo lo vedremo poi in un video dedicato. 12 volt. 24 volt. Devo prendere una luce bianca. C'è già l'attacco originale. Anche Cambus non dà nessun tipo di problema. Poi Philips è un segno di qualità e affidabilità. Prossimo prodottino. Vediamo. Allora. Questo cos'è? Anker. Allora. Charge fast. Sì. Dovrebbe essere un... Se non ricordo male. Un power bank. Vediamo. Sì. Esattamente. Allora. Questo. È il power bank magnetico per iPhone con MagSafe. Questa parte viene attaccata alla parte posteriore dell'iPhone per poter ricaricare. USB-C. Qua ci sono i LED che ci stanno a indicare la carica residua. In questo caso abbiamo due tacche su 5. Plastica morbida. Non dovrebbe essere scivoloso. E poi qui abbiamo il cavo di ricarica USB-C. USB-C. Questa è una cosa che mi serviva perché magari in viaggio si scarica l'iPhone. Ed era una cosa veramente interessante. Intanto continuano ad arrivare notifiche. Prossimo pacco. Allora. Blink Mini. Questo. Fa parte di un pacchetto in sconto in cui c'era questo prodottino e un altro prodottino. È una telecamera di casa Blink che ci permette di fare un po' di videosorveglianza compatibile con Amazon Alexa. Ho scelto la colorazione bianca perché si matcha perfettamente col mio studio. C'è anche, volendo, la colorazione nera. Prossimo pacco. Ah, eccolo qua. Allora. Questa è una scheda madre. Asus Prime A410M. M sta per Micro ATX R2.0 di casa Asus. Questa la vedrete in un progettino futuro. Durante il Prime Day c'era un ulteriore sconto del 20% sull'Amazon Uber House deal. Allora ne ho approfittato. Prossimo prodottino. Qua serviranno le forbici. Allora. A 50. Non c'è più niente. Allora. Dissipatore. Ad aria di casa Antec. Questa è la versione RGB. Modello A50. Ho deciso di portare anche questi prodotti sul mio canale perché cominceremo magari a fare dei test bench, delle recensioni. Vediamo come funzionano i processori, le temperature, che cosa conviene acquistare. Se ho un dissipatore ad aria o liquido l'ho deciso di acquistarlo. Questa, come vi dicevo, è la versione RGB. Andando avanti, altro pacchettino. Questo era già mezzo aperto ma non ci interessa. Eccolo qua. Questo è un altro bundle che era in promozione. Sempre con il Prime Day. Vi portavate a casa con 39 euro. L'Eco Show 5. Il modello da 5 pollici. E il ring, il campanello smart. Qui è presente una telecamera, si collega all'Eco Show e vi mostra chi vi sta suonando alla porta. Ecco, questo è un piccolo esempio. Per 39 euro chiaramente non potevo farne a meno. Avevo bisogno di un Eco Show. Ne ho approfittate e ho preso il bundle. Questo poi lo vedremo in un video dedicato. Altro prodottino. Questo è abbastanza pesante, devo dire. Allora, ecco sì sì. Questa qua è una cosa che mi serviva già da un po' e ne ho approfittato. C'era una bella sezione per quanto riguarda i maker. Per il fai da te. Ed è per questo che ho deciso di acquistare la fresatrice. Einer è una marca che già conosco. Ho diversi accessori. Il trapano, la smerigliatrice, il seghetto alternativo. Una marca che mi ha sempre dato soddisfazione qualità prezzo. Ho deciso di acquistare questo prodottino per fare un video dedicato. su un nuovo progetto. Altro pacco. Ah, qui ci sono un bel po' di cose dentro. Allora, vediamo di tirarle fuori. Uno. Ok. E due. Allora, Stanley Kubics. Cos'è? Una livella laser. Ci permette di poter indirizzare il nostro laser per magari creare delle diverse pitture di colore, dei diversi disegni, di appendere dei quadri, di prendere delle misure. Una cosa molto molto interessante. Va a pile, si collega direttamente al cavalletto se dovete appendere dei quadri, una mensala o magari creare una parete con il doppio colore. Vi dà una riga sia in orizzontale che in verticale così potete posizionare al meglio i vostri prodotti o svolgere al meglio le vostre funzioni. Poi Stanley è sicuramente sinonimo di qualità. Non abbiamo nessun problema. Altro prodottino. Casa Grove RGB Bic. Un sensore, una striscia LED, comandabile con Alexa, Google Home, la sua app dedicata. Funzione Bluetooth, a ritmo di musica, attraverso il sensore vi dà un'illuminazione RGB. Questo lo posizionerò nella mia tv in soggiorno, lo proveremo e poi vi darò le mie considerazioni. Anche questo per un progettino futuro. Ultimo pacco, ma non per importanza. Allora, ah sì sì sì, ecco, questa è una cosa che aspettavo, ho trovato il sconto e non volevo farmela mancare. Allora, da qui chiaramente non si capisce bene cos'è. Qualcuno di voi ha già magari immaginato. Hanno messo tutto questo scotch. Ok, ce l'ho fatta. Ve lo faccio vedere. Questo è uno zaino tech smart antifurto. Ora vi spiegherò anche il perché. Allora, perché è uno zaino antifurto? Perché la cerniera è interna allo zaino. Ora provo a chiuderlo così da farvi vedere. Allora, quando siamo in viaggio ci permette di essere tranquilli, perché magari camminiamo nel traffico con altra gente. Impermeabile. Parte frontale con questo logo on off. Una maniglia da questa parte. Questo è impermeabile. Qua abbiamo una tasca dove riporre i nostri oggetti. Questa è la chiusura e come vedete non c'è possibilità di poterlo aprire. Qua c'è un'altra tasca per riporre le nostre cose. Qui abbiamo la possibilità di poter caricare il cellulare inserendo un power bank all'interno o il jack per le cuffie. Vi faccio vedere anche la parte interna. Ah, inoltre c'è questo gancetto, questo occhiello per poterlo appendere. Un'altra cerniera qui sotto. Questo ci permette di poterlo agganciare alle valigie. Poi ve lo apro. Così vi faccio vedere anche al suo interno come si presenta. Allora, qua possiamo inserire il computer, il tablet. Questo è il cavo USB per caricare magari i vostri device e il vostro cellulare. Qua ci sono i vari scomparti e qui c'è questo strappo per poter collegare le due parti molto, molto capiente. Lo so, lo so, una domanda vi sorge spontanea. Quanti soldi avrà speso il vostro Loretech? Provate a indovinare, scrivetemelo qui sotto. Come vedete non solo prodotti tech sono stati messi in offerta al Prime Day. Anche altri prodotti che ci possono servire nelle attività di vita quotidiana. E il vostro Loretech li ha comprati per portarli su questo canale. A questo punto però voglio sapere la vostra. Che cosa avete comprato in questo Prime Day? Avete trovato delle offerte? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da Amazon Prime Day. E Loretech era tutto. E dimenticavo, nel prossimo video vi dirò quanto ho speso per questo Prime Day. Per cui rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se questo unboxing vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Noi ci vediamo alla prossima.